Allora raga, non pensavo di arrivare a questo giorno 101 iscritti per me Per la prima volta che mi succeda Adesso volevo dirvi soltanto che cambierò la foto profilo Perché metterò una foto profilo che Una foto del canale diversa Con il 100 enorme Poi ci sarà lo speciale, 100 iscritti Quindi state tranquilli che adesso inizieranno un sacco di video In un'ora dei 100 iscritti Quindi sì Vi volevo soltanto dire che in questi giorni ci saranno un paio di video Un sacco di video di spacchettamenti per tutta l'estate Insieme ai vlog della vacanza Se la faccio o se no E niente raga Io spero veramente che Spero veramente Che rimaniamo Che il canale va avanti E vi ringrazio a tutti quanti Io voglio ringraziarvi a tutti Perché siamo partiti dai 20 iscritti Siamo arrivati ai 30 Adesso ritrovermi con 100 iscritti È un po' una cosa Non so come spiegarmelo Io voglio ringraziarvi a tutti i giorni ci saranno un po' una cosa